Per il suo omicidio è stato condannato padre Grattienna Labi, un sacerdote congolese che l'avrebbe strangolata, ma per il fisco Guerrina Piscaia è ancora viva e deve pagare l'IMU. È infatti arrivata la cartella esattoriale per la tassa da versare per la casa di Nova Feltria in provincia di Rimini, di proprietà della donna e delle sue sorelle. Sì, è una cosa assolutamente normale perché per la legge ancora Guerrina Piscaia non è morta. Dovremmo aspettare o una sentenza definitiva, quindi la cassazione che ormai è prossima, credo prima della fine del 2018, oppure in alternativa devono passare dieci anni dall'ultimo cosiddetto avvistamento. Guerrina è scomparsa il 1 maggio 2014 da Caraffello, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Per i giudici della Corte d'Assise di Arezzo e della Corte d'Assise di Appello di Firenze, la casalinga è stata uccisa il giorno della sua scomparsa dal religioso condannato a 25 anni. La difesa di Gratenna Labì attualmente ai domiciliari in convento tenta adesso il ricorso in cassazione. Intanto si continua a cercare il corpo di Guerrina. Il commissario per le persone scomparsa ha infatti chiesto alla procura di Arezzo di mettere a disposizione il DNA della donna, che sarà così inserito nella banca dati nazionale per un'eventuale comparazione con resti umani. Travite questa banca dati si può identificare la provenienza del corpo e quindi speriamo insomma che alla fine il corpo di Guerrina Viscaglia si ritrovi. Avere una tomba su cui piangere per i parenti? Eh vabbè certo, credo che sia una delle cose peggiori, non solo la scomparsa ma neanche sapere dove si trova il corpo.